x in cui oggi farò non lo so vediamo allora io non so dove andare quindi useremo il teletrapporto io non ho queste terre non li ho ancora sbloccate quindi faccio meglio a sbloccare shoppando perchè c'è uno shoppone vediamo quanto c'è vabbè ma vai ho tante germe quindi posso shoppare tutto ma va ma si ma shoppare tutto vabbè non posso più comprare un carro e fantasy world ok ehm oddio quanto brutto ah non è che ehm 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 mi dispiace io devo andare perchè non c'è niente qua vabbè vabbè andando avanti touch com perfetto ancora fortuna fortuna 4 chi è che che cavolo ehm vabbè 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 ma tanto sono pro io non è vero non è vero ehm io sto giocando cioè non ci ho mai giocato perchè i pet che ho non sono miei perchè me li hanno regalati i miei amici praticamente ehm praticamente i miei amici giocavano a sto gioco e quindi mi sono messo a giocare anch'io ma io non avevo niente quindi loro mi hanno dato qualcosa quindi adesso io ho questi poi praticamente questi questi me li ha dati il bello merito poi e questi li ho avuti io questi li ho avuti io perchè moltissimo me li ha dati cioè questi li ho avuti io cioè questo questo l'ho trovato questo l'ho trovato questo me l'ha regalato un tizio questo l'ho trovato questo l'ho trovato questo l'ho trovato poi questo poi no questo questo vale questo vale tanto glittering quindi poi praticamente aglio ciao chiamare amor c fin e in h g g cup foto cosa cos'era? ah mi la che regalo di cacchi no che brutto regalo vabbè andando avanti e io continuo a rompere tutto cioè non me ne sbatto niente mmmm quale non sono andare andare avanti o girare mmmm 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 e io vado di qua perchè ho usato una cesta le ceste di minecraft non è vero no no me ne servono 2 bilioni ma io sono un coglione allora ma letteralmente cavolo ma come io ma sono un pisello praticamente sono io che sono stupido non è per simulator praticamente io pensavo che ne avevo che ne avevo tipo perchè io leggevo 2 milioni e quindi sono andato lì però sono stupido guardami ehm magari dovrei farmi dovrei caricare però io non shop cioè si le uovo si però e quindi sto continuando a fare soldi ah primamente e poi mi servono anche proprio le uova quindi ci vediamo quando le avrò parte ci vedremo quando ce l'avrò fatta eccoci qui ok vediamo quale comprare ma va ma compriamo quelle che costano di più perchè non è che portano fortuna ma vabbè eh io le compro ma quali sono quelle che costano quelle che costano di più costano un botto quindi eh devo per forza comprare queste per forza mmm si ma dai ma c'ho già c'ho già il boost della fortuna però però non trovo non trovo mai niente io è un'altra che schifo vabbè proviamo proviamo queste che costano di più no io ho pokemon ho pokemon almeno ne posso comprare solo una che bello si è mi ha portato pure sfida dai 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 che ce la posso fa perchè c'ho una sfida della madonna guarda ehm magari così posso regalare ma non valgono niente ma li regalo lo stesso se qualcuno vuole questo petto glielo posso regalare non è che mi serve non è che mi serve mi serva più di tanto quindi quindi dov'è questo cos'è questo cos'è questo è leggendario oppure sono anche pixel vediamolo teamwork 10 si mmm ma comunque ehm non è che tanto però almeno ho qualcosa ok ok questo è epico quindi questo lo posso regalare a qualcuno dovete scrivere il vostro unic se lo volete avere allora se lo volete avere prendetevelo ok praticamente per averlo anche se è inutile dovete scrivere dovete scrivere partecipo con la lettera maiuscola poi dovete scrivere i vostri nick di roblox e poi dovete scrivere hashtag pet simulator e dovete scriverlo tutto attaccato tutto in grande dovete scrivere hashtag pet tutto in grande simulator tutto in grande e x tutto in grande tutto attaccato e poi io sceglierò qualcuno ok pratichiamo adesso e adesso boh vediamo perfetto è entrato è entrato il nostro video di che mi ritano qui adesso vi dico mi trovi al tasso wall no mi trovi al tasso sotto Sì, ho scritto Ho scritto Ho scritto Ok Eh, ho forato lo scritto sbagliato, aspetta No, l'ho scritto L'ho scritto bene Quindi, eh Vediamo No, intanto dovevo aprire la gift E lui mi avva Lui mi avva anche detto di aprire Non aprirlo qua perché Io non so cosa succede però Però Mi ha detto che non devo fare Allora, che mi si succede un casino Cioè, non si glitch al gioco Però in teoria In teoria dovrebbe Praticamente Si blocca lì e quindi Ok Comunque Allora Io qui non ho Chi era quello No, non posso Se faccio la banca Io non voglio invitare nessuno Praticamente Oppure non la faccio Perché Praticamente Possono prendere le ramipette Quindi me li tolgono tutti Perfetto 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 Dammi tutte Se monete d'oro Ok, ma lui dove Oh ma ci sei Ma dov'è lui? Oh ma di Eh vabbè se n'è andato Continuiamo il video senza di lui Allora Proviamo ad aprire questo uovo Io spero di trovare il leggendario E quello con i punti In domanda Dai Prova Che schifo No, no, no Io, no Io mi rifiuto No, sto petto fa Fa più schifo Degli altri Cioè ma questa Questa È schifezza assoluta No 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 Vabbè No 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 Io non ci credo Guardate 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 1 90 1 99 Trilioni Per arrivare Non ci credo Io Praticamente Siamo tutti Pixel Praticamente Non è che Non è che Grazie Mi ha No Cioè Non è che Gisgraccio Mi ha scammato Non ho Deve che merito Mi ha scammato Mi ha scammato Di brutto Oh ma lui Non è ancora Arrivato Oh ma ci sei Oh ma ci sei Sì ma sto qui Dove che Chi ha Eh ma Dai Eh Aspetta ma lui dove è andato Ah eccolo Vabbè Uh 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 Dambi gli esclusivi Dambi gli esclusivi Guarda lui come mi Mi sbatti in faccia Se pet No perché Mi servono per un video Li trovono per un video Sì e poi li scanno No ma praticamente Lui mi ha scammato Cos'è Vabbè Vabbè Senti Fatte da solo No Come me Eh come Come No aspetta Non dirmi Come Come Nessuno Me li accetta Lavora Ok Non lavorerò Vi ruberò l'account Perché sono Sotto Assurdo E poter dirvela Ma non ve la dico Perché soltanto io Dovo saperla No non è vero Non lo so Perché lui non me la dice mai Lui non vorrà mai Dirmela Perché altrimenti poi Prendo l'account E Mi faccio I seppetti di Strasfelix Con l'account Ok Allora Ti spiego Quanti touch coins hai Apre le uova Per aumentare di livello Ok No aspetta Ok Ma qua Ma quali Tra Tra Queste Ma quali tra queste Che danno Tanta fortuna E Controlla Ho aperto Tipo Sei uova Non ho trovato Ho trovato Basici Dai Ehm Voi dovete capirlo Eh Eh Censura Censura La censura Non è vero Che non so manco Cos'è ma dai Ma Ma Vabbè Ok 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 Non ci credo Dammi No dai Ok Guarda provo questo No non posso Eh ma se vuoi Se vuoi un hoverboard Gratis Devi aprire Quello in basso Quale Ma questo Questo No Questo 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 Quello no Eh ma quale Questo Questo No Eh ma questo Aspetta Devo aprire Questo Devo aprire Questo Quindi No Aprire L'HG Mi ha dato Un petta A 1.99 Trilioni Ok Andiamo a prendere L'autoclicker Che mi serve Per autocliccare Il clicker Ok Noddio Mi ha fatto Pau L'ho parto Nel punto Sbagliato Non dovevo Farlo Ecco Ecco Infatti Quello che succede Se lo fai Praticamente Si bagga Un perlaki Codo Un per Però Ecco Ecco Cosa succede Quando lo apri qua Non si deve mai fare Comunque Io spero Che il video Vi sia piaciuto E Ciao